Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Connettiti con l'acqua viva. Nelle tue mani è tutta la terra, dagli abissi alle vette dei monti. Suo è il mare, è lui che l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Quando siamo accanto a un grande specchio d'acqua come il mare, sperimentiamo un profondo senso di pace. È provato scientificamente che la presenza di ioni negativi contenuti nell'acqua ha un effetto positivo sulla salute. Gesù disse che ci avrebbe donato acqua viva per colmare la sete, così come lo Spirito Santo che scorre in noi. Proprio come lo Spirito Divino ci rigenera, così fa anche l'acqua. A volte è un bene sgombrare la mente da pensieri ed emozioni. Andare al mare è un buon modo per farlo. Dopotutto, l'acqua è correlata alle emozioni. Meditare accanto all'acqua ed essere pienamente presenti ci aiuta a rilassarci e a focalizzarci sui messaggi e sulla guida divina. Di recente ti sei sentito sopraffatto dalle emozioni. Se è così, andare al mare o al lago potrebbe essere una buona idea. Può anche essere utile guardare un video sulle onde marine o ascoltare un audio dei suoni dell'oceano. Un bagno nei sali marini è un'altra meravigliosa possibilità per aprire il cuore a un dialogo benefico e ristoratore con lo Spirito Santo. Questo è il messaggio della buonanotte.